ciao fragoline e ciao fragoline allora finalmente dopo ricerca ricerca ho trovato i grattivinci che cercavo e che volevo grattare e sono questi qua testa croce quelli da 50 centesimi guardate mi ho presi cinque e vi spoilerò già che c'è la vincita però questo video voi lo vedete quando io ho ritirato i soldi per cui se volete sapere quanto ho vinto andiamo a vedere insieme e la prossima volta dato che ho vinto prenderò altri di questi ma ne vorrei prendere praticamente un pacchetto intero detto questo prima di vedere quanto ho vinto iscrivetevi al canale lasciate un like e un commentino qua sotto ovviamente i commenti andranno tutti revisionati per cui non saranno commenti dove voi potete vederli già pubblichi e per cui vi dico già questo come sapete in tutti i video dei grattivinci i commenti saranno saranno tutti scusate mi distrae il gatto non so più neanche cosa stavo dicendo e comunque saranno tutti revisionati per cui non saranno tutti pubblichi detto questo andiamo e vediamo li grattiamo insieme ho cambiato postazione comunque vediamo e grattiamo uno per uno iniziamo con questo dobbiamo trovare due simboli uguali per cui devo uscire testa testa e croce croce qua è testa e qui è croce scusate il casino ma ci sono i gatti che giocano non vedete così per cui questo è perdente intanto sono curiosa di sapere quanto era 10 euro questo è perdente prossimo facciamo questo facciamo questo testa testa e croce qua c'erano 25 euro qua è perdente proviamo il terzo qui c'è la croce 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 questo è vincente ma lo scopriremo dopo il premio prima grattiamo gli ultimi due tesco testa e croce questo testa testa e croce questa razza e croce vediamo il premio qua c'erano 1,000 euro ciao è perdente l'ultimo testa e croce, vediamo, 50 euro, anche questo biglietto è perdente, vediamo quanto abbiamo vinto. 5, abbiamo vinto 5 euro, direi che questi grattamenti sono troppo forti, c'è in senso troppo belli da grattare. Allora, voi questo video lo vedete quando io ho preso i 5 euro, comunque 5 euro, ho speso 2 euro, se non sbaglio, 2,50 euro e ho vinto 5 euro, ovviamente i 5 euro vorrei provare di nuovo a giocare, perché tanto ne prendo altri grattamenti, questa volta voglio prenderne 10 e vediamo come entra a finire. Comunque questo qui mi piace, è molto molto semplice da giocare ed è molto bello, per cui adesso andrò a ritirare i 5 euro, così nessuno me li può prendere. E niente, e questi qua, questi quattro sono tutti perdenti. Beh, allora, la prossima volta mi gratterò insieme a voi e non guarderò se è perdente o... se è perdente o... dai vieni su! Ah, se è perdente o è vincente il grattavinci. Scusate, ma c'è il gatto. Ve lo faccio vedere. Eccolo! Il mio bel micione piccolino. Guardate com'è carino il mio bincetto. Hai visto? Questo è il primo bincetto. Poi c'è un altro che... questi sono i nuovi arrivati e dato che sono piccoli è difficile fare i video. Però... no! E' mortazzi tua! Che sta magnatutto! Vieni, vieni che ti faccio vedere. Vieni, dai! Ok, vi faccio vedere là la mia bimba, l'altra mia bimba piccolina appena presa. E qua sono i miei due bimbi! Sì! Detto questo, noi ci vediamo al prossimo video. Spero che questo video vi sia piaciuto con la presenza dei miei gattini, dei nuovi arrivati in famiglia. Per cui noi ci vediamo al prossimo video e io vi saluto. Ciao!